ciao a tutti questa sera vi presento il sistema z capateco di conteggio persone in questo caso l'abbiamo fatto con due pro face ma si può fare tranquillamente anche con due speed face e il software biosecurity ottimizzato con il firmware per il conteggio persone abbiamo fatto un'ipotetica ambiente di lavoro televista dove ci possono stare dieci utenti massimo in questo momento mi fa vedere che non c'è nessuno all'interno se mi presento all'interno davanti al lettore che mi fa appunto la misurazione della temperatura e riconoscimento della mascherina mi conteggia il mio ingresso faccio una nuova lettura e sia nel terminale sia nel monitor io ho la segnalazione di quante persone sono all'interno in questo caso due se mi presento nel lettore dedicato all'uscita e solo se in presenza di mascherina e temperatura corretta mi scala la presenza e me lo scala direttamente anche nel software ciao a tutti